Palla che arriva in area di rigore e c'è il gol da parte di Martinelli, l'inserimento del capitano, il colpo di testa vincente e il Vicenza è avanti, Aldelduca 1-0. Pallone che arriva in area di rigore, il colpo di testa e il gol di Mendicino al 43esimo minuto, il pallone sotto l'incrocio dei pali. Ancora Giorgi, ecco il cross, palla arriva in area di rigore, attenzione Mendicino, palerete, Mendicino, clamoroso Aldelduca al 90esimo minuto, Mendicino l'uomo della provvidenza.